Ciao ragazzi, ben ritrovati nel mio canale YouTube. Oggi il video è importantissimo perché sono usciti nuovi pacchetti nel database riferiti ai Totti, che probabilmente arriveranno già tra oggi, domani o magari nel weekend. Prima di partire vi invito a fare un salto su fcmaglia.com. Mi è arrivata l'ultima tuta dei Milwaukee. Bellissima, veramente, veramente figa. Perché vi ricordo che su FC Maglia trovate maglie, divise, tute, tutto quello che volete a tema calcio. Adesso anche basket, eccetera, eccetera, eccetera. Fateci un salto, trovate il link in descrizione. Coupon Lucio e avete lo scontro del 10% su tutti i prodotti disponibili nel sito. Allora, come potete vedere qua al mio fianco, sono stati aggiunti al database una serie di pacchetti molto interessanti. I primi tre sono i classici, tre giocatori 83+, difensori, centrocampisti, attaccanti, che solitamente vengono rilasciate nel 2-3 giorni che anticipano l'arrivo del Totti, che vi danno la possibilità di farmare questi pack e aprirli poi nel momento in cui ci sono i Totti disponibili nei pacchetti e tentare la vostra sculata. È raggiunto anche un pacchetto 10 giocatori 82+, e anche questo è molto interessante. Andiamo a vedere quali potrebbero essere i requisiti. Allora, i pacchetti 83+, l'anno scorso richiedevano, o meglio, gli anni scorsi richiedevano, valutazione 83 per gli attaccanti e i centrocampisti, valutazione 82 per i difensori. Da questo proposito, se non avete già comprato gli 83 da quando ve ne ho parlato negli ultimi giorni, probabilmente adesso è tardi. Se riuscite ad accaparrarvi ancora qualche 83 sotto i 1300-1400, può essere una buona mossa, altrimenti lasciate perdere perché siete semplicemente in ritardo. Potete già listare le card 83, magari anche a 2000-2002-2003-2004. Così. Poi vediamo nel momento in cui escono le varie SBC a che prezzo arriveranno e a che prezzo possiamo rivendere le card. Ok? Perché comunque facciamo sempre in tempo ad aggiustare il list se facciamo una listata troppo alta. Per quanto riguarda il pacchetto difensori e non solo, ricordatevi che il requisito 82, quindi le carte valutazione 82, saranno utilizzate anche nel requisito 83. Per quale motivo? Magari io ho un 84 non scambiabile, ci metto un 84, ci metto 7, 8, 83 e gli altri 82. Quindi anche la categoria 82 è interessante. A tal proposito possiamo prenderci carte 0 rischi, valutazione 82 oro rari. Si prendono facilmente a 700 via asta e a tal proposito abbiniamo le possibilità di requisito sia del pacco da Natale Più che degli incontri principali. Per esempio Andre Silva è un 82 dell'Ipsia. L'Ipsia gioca con il Bayern giovedì, potrebbe essere un incontro principale. Oppure Chilwell è del Chelsea, il Chelsea gioca mi pare un big match contro forse l'Arsenal nel weekend, non mi ricordo di preciso, ed è un possibile incontro principale. Quindi abbinate un investimento, 0 rischi, con doppio possibilità di guadagno. Andre Silva, L'Ipsia, Chilwell, Chelsea. E allo stesso modo ne potete trovare altri, ok? Quindi valutazione 82, oro rari, in modo tale che siano 0 rischio, e soprattutto di queste squadre che possono avere un requisito negli incontri principali. Le carte 82 potete già listarle volendo al doppio. Oppure il mio consiglio è non riempitevi con gli 82, teneteli in lista obiettivi, copie singole dei giocatori in club e rivendere nel momento in cui saranno utili. Ultima cosa, ma non per importanza, il pacchetto 10-82+. È esattamente un pacchetto simile a quello 83+, visto ieri e visto settimana scorsa, con i 10 giocatori 83+. E qui potremmo avere un requisito Team of the Week. L'anno scorso, gli anni scorsi, c'era un requisito doppio Team of the Week, ma attenzione, perché gli anni scorsi c'erano pacchetti 11-81+, ruolo per ruolo. Quindi 11-81+, attaccanti, centrocampisti e difensori. E lì c'era un requisito Team of the Week. Cosa che non è detto ci sia quest'anno, perché è un pacchetto unico 82+, anche se potrebbe essere molto probabile un requisito magari 83 generico con un Team of the Week all'interno. Cosa fare in questo caso? Qualsiasi Team of the Week, massimo 11.000-11.500, può essere un buon investimento. Flippatelo tranquillamente a più 2k e mezzo 3k. Considerando anche che c'è la sfida aggiornamento 83+, 10x attualmente attiva, difficilmente i Team of the Week vanno sotto quel prezzo lì. Quindi anche qua parliamo di investimento rischio zero. Fatemi sapere nei commenti se avevate già riempito il club di 83, come vi avevo parlato nei giorni scorsi. Se siete sicuramente ancora in tempo per fare investimenti, quindi fateli ora e non aspettate oltre. E aspettiamo di sbancare in vista di questi totti. Dopodiché, arriva da venerdì il Team of the Year. Io vi invito a seguirmi live su Twitch perché farò live giornaliere. È possibile anche live qualcosa nel weekend, siccome siamo in un periodo importante e vorrei essere qui per darvi una mano. Oltretutto, se vi abbonate al nostro canale Twitch e l'abbonamento è gratuito se siete utenti Amazon Prime oppure parte dai 3-4 euro mensili, potete accedere al nostro server Discord dove ogni giorno pubblico consigli di compraventa. Non mancate ragazzi, ci vediamo oggi domani live su Twitch, ci vediamo al prossimo video e un saluto dal vostro Carluccio. Ciao!